Presso la Sala di Consiglio del Comune di Pavia si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della sesta stagione di concerti del Collegio Ghislieri. L'obiettivo del Collegio Ghislieri di Pavia, di rappresentare anche in campo musicale una realtà di riferimento per il territorio, ha dato vita a una serie di attività per rendere accessibile e altamente qualificato il momento musicale, sia per chi ne esufruisce in qualità di ascoltatore, sia per chi vi partecipa direttamente in veste di esecutore. Nasce così Ghislieri Musica, una struttura associativa costituitasi per organizzare e gestire al meglio l'attività musicale del Collegio. Ideato da Ghislieri Musica e realizzato con il sostegno della Fondazione Cariplo, Progetto Orfeo è una rete di circuitazione concertistica di musica barocca e classica che quest'anno coinvolgerà le quattro città lombarde di Pavia, Mantova, Milano e Brescia, con i loro rispettivi gruppi residenti. Come spiega Giulio Prandi, direttore musicale, l'obiettivo è puntato con decisione sul 700 secolo che ha visto l'esplosione creativa delle grandi scuole musicali europee. Un itinerario ci porterà a seguire autori come Bach, Mozart e Vivaldi. Intrecciandosi con un secondo, le cui pietre miliari saranno autori come Leo, Traetta e il bolognese Perti. L'edizione 2008 del progetto si articolerà in sette serate, dal 2 aprile al 24 giugno.